Chiaro che con 15 partite più queste due di 17 in tutto, quelle importanti da qui alla fine, 15 di campionato e 2 per ora della Champions, avendo tutta la rosa a disposizione, ora vediamo chi sta bene, chi rientra dagli infortuni, ma insomma più o meno siamo tutti a disposizione, è chiaro che siamo più fiduciosi di poter fare delle vittorie, quelle che ci sono mancate fino ad ora. E quindi si vuole tentare, senza fare tabelle, di arrivare più in alto possibile, quindi anche dato che 7 punti sono tanti, però sono relativamente tanti in base a quello che faremo noi, quindi siamo fiduciosi anche perché le squadre diverse che ci precedono in classifica devono venire a Napoli, abbiamo uno stadio che, come domani mi dicono, ci sono 50.000 spettatori, uno dei stadi più importanti d'Italia, abbiamo un pubblico eccezionale, proveremo fino alla fine a fare quello che purtroppo fino ad ora non siamo stati capaci. Osimè rientra, oggi ci parlerò, con Osimè mi sono sentito sempre al telefono, anche alla Coppa d'Africa, come stava, come non stava, c'è un contatto continuo anche personale, ora quando arrivo voglio sentire come sta, ci parlerò e capirò se sarà disponibile per domani a fare qualcosa, venirò a un panchino oppure vediamo come sta, perché quando uno fa quei viaggi, fa queste competizioni, lo sapete benissimo, vale per tutti, vi voglio capire come starà e basta.